Palinsesti Rai 1 2018-19, tutte le novità ed un clamoroso ritorno Cosa andrà in onda su Rai 1 a partire da settembre 2018? Questa è la domanda che, in molti appassionati della prima rete si staranno facendo. Molte voci, ma anche qualche certezza sono trapelate sulle testate televisive negli ultimi giorni. Nonostante la Rai sia regina delle prime serate, il primo canale ha degli zoccoli duri da dover risolvere. Stiamo parlando della domenica pomeriggio, dove la nuova domenica in di Cristina Parodi, con la presenza della sorella Benedetta nelle prime puntate. Non è riuscita a convincere un consistente numero di telespettatori. Oppure il sabato sera che per molti mesi ha sofferto la durissima concorrenza di Maria De Filippi e dei suoi programmi di punta come Tussicue Vale se cè posta per te. Quali saranno, dunque, le scelte di palinsesto che adotterà Rai 1 diretta da Angelo Teodoli per far crescere gli ascolti nelle fasce orarie più sofferenti? . In particolare il daytime che, nonostante laumento di spettatori e share nella fascia posti G1 delle 13 e 30. . Ancora risulta di parecchio sotto Canale 5, che continua a dominare il pomeriggio con le soap, Uomini e Donne e Pomeriggio 5 quest'ultimo condotto da Barbara D'Urso. . Le novità nel daytime mattutino e pomeridiano. . Quali sono le novità di Rai 1, per quanto riguarda il palinsesto mattutino e pomeridiano della stagione televisiva 2018-2019?. . Confermata, ovviamente, uno mattina a partire dalle ore 6.45 con Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. . Mentre si allunga fino alle 11.40 storie italiane con Eleonora Daniele che darà la linea, successivamente. . Alla prova del cuoco che sarà quasi sicuramente condotta da Elisa Isoardi, visto che Antonella Clerici ha detto che di voler abbandonare la trasmissione. . . Dopo il Tg 1 delle 13.30 non riproveremo più Zero e Lodi con Alessandro Greco, nonostante i buoni ascolti. . Ma un programma del tutto nuovo con Caterina Balivo che ritornerà sulla rete ammiraglia dopo la lunga esperienza su Rai 2 con Detto Fatto. . . Dopo la Balivo, andrà in onda la nuova sop ispirata all'omonima fiction Il Paradiso delle Signore E. . Subito dopo la vita in diretta, la quale sarà presentata da Francesca Fialdini e, forse, Tiberio Timperi. . Nel Preserale torna l'eredità, che sarà condotta molto probabilmente da Carlo Conti che, in seguito, farà staffetta con un nuovo conduttore. . . Sabato pomeriggio spazio ad un nuovo programma pomeridiano con Marco Liorni che lascerà la vita in diretta. . . Mentre la domenica ci potrebbe essere il ritorno di Mara Venier a domenica in. . Mentre Cristina Parodi sarà alla guida di Unto che andrà in onda nella seconda parte del pomeriggio. . Inoltre, si parla di nuovo quiz al post dell'eredità nella fascia preserale, ma che andrà in onda solo nel weekend e che avrà come conduttore Alessandro Greco. . Reduce dal rilancio professionale con Zero e Lode quest'anno ed ritorno di furore nella scorsa stagione televisiva. . . In accis confermatissimo i soliti ignoti con Amadeus, mentre in primavera si parla di una nuova edizione del gioco dei pacchi Affari tuoi. . . Il nuovo prime time di Rai 1 ed un grande ritorno. . Quali saranno le novità nelle prime serate? Ad inizio settimana, spazio alle fiction ed alla Champions League, che tornerà in Rai. . . Il venerdì confermatissimo tale quale show con Carlo Conti che, però, rispetto agli anni precedenti, potrebbe avere una concorrenza temibile da parte di Canale 5. . 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